musica musica in giro stargati yz due e mezzo due tempi e si va a comandare com'è bella ignorante su una bella ripresa gira un botto bene stra bella raga ma che si impenna così a caso è assurda alle margine è un po corte però veramente sgasa un sacco veramente veramente bella una gran moto che va un sacco eh però rapporti un botto corti un botto corti l'ero in quinta è un massimo merita merita si impenna da sola e via si impenna da sola ora capisci come fanno gli americani a fare boop e salire tutto indietro sicuro che mi fa paura impenna da sola e va che gli americani che fanno così boop e sono già indietro secondo me è colpa sua eh ma le ha le braccia eh vuoi fare cambio casco va bene quando si apre la valvola è una cosa assurda allora ragazzi questa moto ha 5 marce ora vi faccio vedere come si impenna in queste marce partiamo dalla prima appena con la macchina si sposta tutte le 5 marce di gas prima abbiamo rotto il carro andiamo di là ciao 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 Grazie per la visione